Torniamo ad ascoltare i preziosi suggerimenti che ha per noi oggi Alfredo di Giovan Paolo che si trova a Bracciano. Alfredo? Ci siamo spostati in un altro hangar, un'altra sala espositiva del Museo della Storia dell'Aeronautica Militare col dottor Squiccerini della Croce Rossa. Gli ultimi consigli che sono contenuti in questo puscolo. Dieci regole d'oro per fare cosa? Per il sonno sicuro, per ridurre del 60% gli incidenti in culla. Un altro grande pensiero di ogni mamma quando mette a dormire un bambino. All'interno, dieci regole d'oro secondo linee guida internazionali. La prima regola da rispettare assolutamente di queste dieci? Mettere a dormire il bambino a pancia in su. A pancia in su? Quindi contrariamente a quanto si pensi, di solito per disostruire le vie respiratorie si gira a pancia in giù. Invece è sbagliato, perché? Perché è scientificamente provato che dormendo a pancia in su si ha una maggiore erorazione del centro che fa riprendere durante la pneostruttiva e in caso di vomito il primo tubo che si incontra è quello dell'apparato gastroenterico e non quello delle vie aeree. Un'ultima battuta, un saluto del colonnello. Un invito soprattutto ai bambini. Chiudiamo con una nota positiva. Sicuramente, grazie di essere venuti qui a effettuare questo servizio e vi invito a venire numerosi e soprattutto con i bambini perché ci sono degli ampi spazi, possiamo permettere anche ai bambini di divertirsi, divertirsi nella storia e nella cultura. Grazie a tutti e veniteci a trovare. Grazie all'Aeronautica, grazie alla Croce Rossa e noi vi salutiamo dal Museo di Vigna di Valle.